Musica Rifiuti tossici, operazione del NOA e sotterravano o bruciavano veleni e scorie radioattive. In 14 sono finiti in manette coinvolte quattro regioni. Un mese fa un camion sorpreso sulla costa molisana. Interrogato in carcere, Santoro incapace, lo ha detto il suo legale Arturo Messere. Personalità labile, con problemi non è in grado di intendere. Intanto il giudice si è riservato di decidere se confermare la detenzione. Il ministro Martina si interesserà dello zuccherificio, lo ha confermato oggi il capogruppo del PD della Commissione Agricoltura del Senato, Ruta, ha annunciato per martedì un incontro a Roma. Discussa in consiglio la legge finanziaria, a Palazzo Moffa il dibattito sul documento contabile, sul bilancio uno strumento che risponde alle esigenze del territorio. Secondo Totaro, l'opposizione intanto affila le armi. Giornata granata per il derby del Civitelle ad Agnone, grande attesa per la gara contro il Termoli che può valere l'intera stagione all'Isernia, tre punti a tavolino per la partita contro il Boiano. Buon pomeriggio, benvenuti al nostro TG delle 14. Un incontro riservato esclusivamente allo zuccherificio del Molise in programma per martedì prossimo alle 11 nella sede del Ministero delle Politiche Agricole alla presenza del ministro Martina. A darne notizia il senatore del PD Roberto Ruta. Sentiamo i particolari nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Il pressing del senatore del PD Roberto Ruta sul ministro Martina ha prodotto il primo importante risultato, la convocazione di un incontro riservato esclusivamente allo zuccherificio del Molise. La riunione è stata fissata per martedì prossimo alle 11 nella sede del Ministero delle Politiche Agricole alla presenza dello stesso ministro e alla quale saranno invitati a partecipare il presidente della regione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei bieticoltori. Sul tavolo di Martina la gravissima crisi che investe l'impianto saccarifero del Molise, l'unico per tutto il sud perché, ha sottolineato Ruta nel corso della conferenza stampa organizzata per annunciare il vertice, il Molise ormai da solo non ce la fa a produrre zucchero perché il prezzo ormai è sceso. La situazione del comparto bieticolo saccarifero era stata al centro dell'autizione in Commissione Agricoltura al Senato. In quella sede i rappresentanti del settore avevano chiesto l'erogazione da parte del governo del saldo per l'annualità 2009-2010 di 46 milioni di euro, gli aiuti nazionali attesi per tutta la filiera e l'incremento del sostegno accoppiato alla bieticoltura nazionale da 500 euro ad ettero, almeno 600 euro. Richieste sulle quali il ministro si è impegnato a dare risposte, ha sottolineato Ruta, affinché i quattro stabilimenti rimasti in Italia, di cui tre al nord, possano continuare a produrre zucchero. Per l'impianto di Termoli dunque si aprono spirali, l'incontro di martedì potrebbe rappresentare il primo passo per salvare la struttura e con essa decine di posti di lavoro. Nel corso dell'incontro con i giornalisti il parlamentare ha anche illustrato i contenuti di Campo Libero, il piano di azioni in favore del settore agricolo, quello dell'agroalimentare e della pesca, un pacchetto di interventi per sostenere e rilanciare l'intero comparto. Entro il 30 aprile le associazioni di categoria potranno far pervenire le osservazioni al piano, dopodiché a concluso Ruta il decreto diventerà legge. Andiamo adesso a Palazzo Moffa perché in Consiglio regionale è ripreso il dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio. Sentiamo a che punto sono i lavori nel servizio di Giovanni Minicozzi. È ripreso il confronto in Consiglio regionale per discutere il documento di finanza pubblica già illustrato dal Presidente Frattura nell'ultima riunione e per approvare la legge finanziaria il bilancio di competenza e di cassa per il 2014 e quello pluriennale 2014-2016. Dovrebbero così terminare gli oltre tre lunghi mesi di esercizio provvisorio che di fatto hanno paralizzato la regione. Intanto la proposta del nuovo bilancio elaborata dall'Aggiunta è stata licenziata dalla prima commissione presieduta da Francesco Totaro. È un bilancio da un punto di vista politico innovativo se vogliamo. Si delineano tre ragionamenti che sono stati poi ragionamenti che durante le audizioni dove hanno partecipato società civile, sindacati, il mondo dell'imprenditoria, ai quali va il mio ringraziamento perché hanno dato un contributo fattivo e credo che questo debba essere lo spirito, cioè quello di un coinvolgimento rispetto ai temi che coinvolgono questa regione. È un bilancio che, come dicevo, si delinea su tre direttrici. Una è il lavoro, la seconda è i servizi sociali, il terzo è una ripresa economica. Sono tre obiettivi fondamentali se vogliamo che questa nostra regione si rimetta in cammino. Se noi non riusciamo in questo intendo, credo che continueremo ad avere tempi difficili in questa regione. E di questo devo dare atto anche ai componenti della Commissione di maggioranza e di opposizione che hanno avuto una collaborazione fattiva rispetto sia alla finanziaria e sia al bilancio 2014. Alle 12 è scaduto il termine per presentare gli emendamenti. Alla Presidenza ne sono arrivati una ventina proposti dalla Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio Vincenzo Niro, dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle che tra l'altro hanno espresso disponibilità a collaborare se si cambia il percorso e dal centro-destra. Il bilancio e la finanziaria regionale potrebbero essere approvati nella tarda serata. Puntata speciale di Mobi Dicchinon da questa sera in diretta a partire dalle 21. Ospiti in studio saranno l'Onorevole del PD Danilo Leva che parlerà di attualità politica nazionale regionale, il Rettore dell'Università Gian Maria Palmieri che illustrerà i suoi programmi e le strategie per rilanciare l'Ateneo Molisano, il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro che farà il resoconto di un anno di attività al vertice di Palazzo Moffa ed è previsto anche l'intervento esterno del Sindaco di Isernia Luigi Brasiello in studio con Giovanni Minicozzi. Intervisteranno gli ospiti la giornalista Carmen Sepede del Tempo e l'altra giornalista Giovanna Ruggero della Gazzetta del Molise. Sono tre i nomi che verranno portati al tavolo del centro-destra nell'incontro previsto per questo pomeriggio a Termoli per scegliere definitivamente il candidato alla carica di Sindaco della città. Si tratta del decaduto Antonio Di Brino, dell'assessore provinciale Rita Colace e del consigliere comunale uscente Francesco Roberti. I loro nomi hanno avuto l'ok da Roma dopo l'incontro di ieri con il commissario di Forza Italia Rotondi. La cronaca adesso con il blitz effettuato dai carabinieri del Nucleo Ecologico di Bari nell'ambito di un'inchiesta sull'interramento dei rifiuti tossici gestiti dalle eco-mafie. Le indagini si sono soffermate anche su alcuni siti che riguardano il Molise, ma ci dice di più Giovanni Di Tota. In alcuni casi i rifiuti venivano subito incendiati nella terra dei fuochi, accade ancora oggi. In altri, i veleni erano tombati nel senso che finivano per lo più sotto metri e metri di terreno. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari e la Direzione Investigativa Antimafia hanno chiuso il cerchio attorno alla lista Schiavone. Nell'operazione Black Land hanno eseguito 14 ordini di cattura nel quadrilatero Puglia, Campania, Molise e Basilicata. Le zone, cioè, dove secondo quanto rivelò Carmine Schiavone alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul riciclo dei rifiuti, materiale di ogni tipo, tossico o radioattivo, è stato nascosto. Rivelazioni rimaste segrete dal 7 ottobre 1997 quando il boss pentito del clan di Casal di Principe e cugino di Sandokan mise tra le mani dei parlamentari della Commissione una lista di nomi e di siti dove andare a cercare i fusti che la cosiddetta ecomafia campana gestiva tra complicità e connivenze. Uno degli arrestati di oggi figura tra i nomi indicati allora da Schiavone. Poco più in là del confine con la Puglia, nel Foggiano, le indagini condotte con rilevazioni satellitari e telecamere a infrarossi hanno documentato l'interramento di rifiuti non trattati derivanti da un enorme cratere presente su un terreno agricolo di Ordona in provincia di Foggia. Appena un mese fa gli agenti della forestale del Basso Molise a Campomarino hanno intercettato un camion che aveva appena scaricato rifiuti in un'oasi protetta a poche centinaia di metri dalla costa a cui stavano dando fuoco. L'episodio è collegato all'operazione che si è conclusa con i 14 arresti e il sequestro di 25 milioni di euro tra aziende, stabilimenti, camion e discariche abusive. Tutto riconducibile al fiduciario foggiano dei clan che attorno ai rifiuti ha creato un affare milionario. In Molise non hanno dato alcun esito finora le indagini condotte anche con i georadar nell'area del Venafrano dove, stando alle dichiarazioni di Schiavone, potrebbero essere finiti parte dei rifiuti tossici tombati dalla camorra. Nella tarda mattinata c'è stato l'interrogatorio di Umberto Santoro nel carcere di Campobasso l'uomo, lo ricorderete, accusato di tentato omicidio nella rapina avvenuta tre sere fa in una sala giochi del centro del capoluogo. Intanto la ragazza ferita ha lasciato il reparto di rianimazione del Cardarelli, ma sentiamo come è andato l'interrogatorio. Umberto Santoro è stato ricoverato più volte all'ospedale per malattia mentale e trattamenti psichiatrici a Campobasso congedato dal servizio nell'esercito perché con personalità psicopatica isterica e labile è in cura al CERT perché fa uso di cocaina ed eroina oltre che di psicofarmaci da dieci anni. Questo è il quadro clinico dell'uomo che l'avvocato difensore Arturo Messere ha sintetizzato in quattro pagine di memoria che ha consegnato al GIP Teresina Pepe in carcere dove c'è stato l'interrogatorio di Santoro che ha coltellato la giovane di 29 anni nella sala slot Las Vegas del capoluogo tentato omicidio e rapina l'accusa. Il PM, la Lombardia, ha chiesto la convalida degli arresti e la misura cautelare in carcere. Ho dimostrato con documentazione al GIP che Santoro è uno psicopatico con cronica indossicazione da stupefacenti e da alcol. In secondo ordine mi sono opposto alla convalida dell'arresto in flagranza perché al momento non era in condizione non era capace di intendere e di volere. In terzo ordine mi sono opposto alla misura chiesta dal Pubblico Ministero di detenzione in carcere proprio per queste sue incapacità e ho chiesto che il giudice lo mandi ai domiciliari con il braccialetto in una casa di cura. Ho indicato anche le case di cure dove può andare sempre ai domiciliari perché si deve contestualmente curare e in ultima analisi ho chiesto la nomina di un perito o di un diciamo un pool di periti psichiatrici proprio per fare in modo per accertare questa situazione di incapacità di intendere e di volere del Santoro. Messere ha legato alla memoria cartelle cliniche certificati ASREM che riguardano Santoro e ha sottolineato come la grave situazione di sofferenza psichica e dell'uomo si è dipanata negli anni a tal punto da sfociare nel grave gesto di sangue. Lui ha parlato? Lui non è stato in grado di parlare perché ha problemi proprio collegati a questa sua situazione. Uno che lascia il borsello il coltello dove ha posto in essere dei fatti gravi e se ne va a mangiare tranquillamente la pizza con il sangue con i vestiti ripeto con segni di sangue e via dicendo non mi sembra che sia normale non sia una persona normale. Un comportamento secondo Messere che dimostra una situazione di distacco alterato dalla realtà e di vero e proprio delirio il giudice dovrà ora decidere sulle richieste del PM dell'avvocato difensore. E per la morte di Giuseppe Acovone anche il Ministero degli Interni si costituisce come parte civile nel procedimento giudiziario che vede indagato il conducente di un fuoristrada inseguito dalla volante della polizia guidata dall'agente che è rimasto poi ucciso nello scontro frontale. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Processo sulla morte di Giuseppe Acovone il giovane agente di polizia di Isernia rimasto ucciso nel corso dell'infinimento a un SUV nei pressi di Macchia di Isernia nel procedimento contro il conducente del fuoristrada si è costituito come parte civile il Ministero degli Interni un evento definito eccezionale dal consulente della famiglia Acovone. Al Tribunale di Isernia si è celebrato un fatto storico nella storia giudiziaria di questo paese perché in onore di questo poliziotto che ha sacrificato la sua giovane vita per rispetto della divisa e nell'adempimento ad Amantino del suo dovere il Ministero per la prima volta ha ritenuto di costruirsi parte civile tramite l'avvocatura distrettuale di Campobasso adesso però bisogna chiarire che il vero protagonista di questo processo deve essere la giustizia per questo giovane poliziotto che ripeto ha sacrificato la sua verde età e il Ministero non aveva mai adottato una politica di costituzione di parte civile proprio perché generalmente sono le famiglie delle vittime che vengono assistite dal Ministero e vengono risarciate in tutti i danni anche con un trattamento pensionistico privilegiato però giustamente in questo caso per la prima volta in Italia è avvenuta questa costituzione di parte civile dopo la costituzione del Ministero degli Interni l'udienza è stata nuovamente aggiornata prima delle conclusioni del procuratore Albano che rappresenta in aula la pubblica accusa per la prossima utenza attendiamo la consulenza della difesa e valuteremo i risultati della stessa la procura poi potrà anche concludere è di dieci persone denunciate all'autorità giudiziaria il bilancio definitivo di una vasta operazione di controllo straordinario del territorio predisposta dal comando provinciale di Isernia per contrastare fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa tra i vari reati contestati quelli che vanno dalla detenzione illegale di armi a quelle di stupefacenti dal danneggiamento e maltrattamento in famiglia dalle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla regolarità occupazionale ad altri reati in genere grave episodio di cronaca al pronto soccorso del veneziale di Isernia dove il medico di turno è stato aggredito e malmenato da un paziente che pretendeva di essere ricoverato sentiamo ancora Enzo Di Gaetano grave episodio di cronaca Nero a pronto soccorso dell'ospedale di Isernia che già vive in una condizione di assoluta precarietà un uomo di circa 40 anni che pretendeva un ricovero dal medico di turno di fronte alle richieste di accertamenti da parte dei sanitari ha dato in escandescenze aggredendo il medico e gli infermieri e danneggiando porte su pellettili del pronto soccorso una scena da incubo e senza alcuna protezione per gli addetti perché il posto di polizia è operativo solo in poche ore del giorno e non di sera o di notte ma ascoltiamo Benedetto Potena il medico aggredito che presenterà denuncia sull'accaduto si è verificata ancora una volta l'ennesima aggressione al carico del personale in servizio questa volta ha coinvolto me ed altro personale che è stato minacciato io sono stato anche diciamo percorso sfiorato praticamente da un paziente che è venuto qui al pronto soccorso un paziente un pochino particolare che noi già conoscevamo che però stasera diciamo non si è controllato e le date in escandescenze appunto ha provocato danni sia al pronto soccorso alla struttura e poi ha anche aggredito me e altri personale che era in servizio insomma e che cosa voleva perché vi ha aggredito? ha aggredito perché pretendeva un ricovero un ricovero che non era possibile lo specialista che era stato chiamato da noi gli ha prospettato il fatto che non c'era possibilità di ricoverarlo in quanto mancavano i posti letto gli ha proposto una terapia in attesa che si liberasse domani il posto letto il paziente pretendia di essere ricoverato è andato in escandescenze una situazione che dimostra lo stato di estremo disagio in cui vivete il disagio siamo esposti completamente non c'è il minimo purtroppo di protezione noi già avevamo manifestato questo disagio abbiamo chiesto di essere più tutelati soprattutto in un momento particolare in cui il disagio che viene vissuto sia da noi come personale ma anche dagli utenti che afferiscono il pronto soccorso questo porta spesso a discussioni e poi a volte si va oltre come è successo stasera e succede quello che non dovrebbe succedere la polizia chiamata dal pronto soccorso alla fine è arrivata e ha bloccato l'aggressore che è stato poi trasferito al Cardarelli di Campobasso l'eurodeputato Pino Arlacchi è intervenuto a Campobasso in un convegno organizzato dai giovani democratici del Molise lo ha intervistato Marcella Tamburelli Lo sviluppo del Mezzogiorno è una priorità per la crescita dell'intera Italia da troppo tempo le regioni del Sud sono infatti ferme ed incapaci ad investire e di utilizzare fondi economici provenienti dalla comunità europea a sostenerlo l'eurodeputato Pino Arlacchi che ha partecipato al convegno organizzato dai giovani democratici del Molise dal titolo Fondi europei e sviluppo del Mezzogiorno va fatta una legge che stabilisca che quando una regione non rispetta la tabella di marcia nella spesa dei fondi europei questa spesa viene commissariata la regione viene espropriata di questa gestione che viene affidata ai comuni o a degli organismi delle agenzie da costituire ad hoc e alcune regioni italiane si distinguono per il fatto che non spendono questi fondi altri li spendono ma in linea di massimo la situazione è estremamente insoddisfacente abbiamo una media nazionale del 50% di fondi non spesi e in certe regioni si va anche oltre e il Molise è una di queste le regioni del sud compreso il Molise dovrebbero iniziare a creare proposte utili per crescere e soprattutto per evitare di perdere i fondi che la comunità europea mette a disposizione per lo sviluppo dell'Italia quindi con questa legge il sud può crescere? certamente i fondi europei sono fondamentali perché consentono di far sviluppare le risorse locali una volta che una zona una regione una provincia anche un comune fa dei progetti validi per valorizzare una qualunque risorsa locale o anche per costruire infrastrutture per crescere e questo progetto è fatto secondo le regole non c'è alcuna ragione per cui non debba arrivare il fondo europeo i fondi vengono spesi in base a progetti quindi bisogna farne tanti e bisogna fare progetti validi se non si fanno i progetti o se non si è capaci di spenderli come gran parte delle regioni meridionali la colpa è facilmente individuabile con l'incontro di Campobasso Arlacchi ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale per le elezioni europee del 25 maggio soddisfazione per la riapertura della tratta ferroviaria sul Monacarpinone il presidente di transita Francesco Tufano è stato il primo ad essere informato dai vertici delle ferrovie che dalla metà di maggio potrà riprendere la normale circolazione appunto dei treni turistici sulla storica linea ferroviaria a Carpinone sul Mona transita nel ringraziare tutti coloro istituzioni e associazioni cittadini comuni che in questi mesi si sono battuti per la riapertura della linea che ha portato notevoli flussi turistici sul territorio in forma che inizierà immediatamente a predisporre una programmazione che permetta a turisti italiani e stranieri di godere delle immagini straordinarie che questo territorio sa offrire si chiama Cioccolando la manifestazione che si sta svolgendo a Campobasso in piazza Municipio e che si concluderà domenica sentiamo Cioccolato Delizia per occhi e palato a Campobasso è in corso la manifestazione Cioccolando organizzata dall'Associazione Culturale Costruttori di Eventi L'iniziativa si concluderà domenica stand in piazza Municipio con ogni sorta di prelibatezza al cioccolato allestito anche un laboratorio con maestri cioccolatieri che mostreranno la loro arte nel realizzare sculture in cui protagonista è il cacao con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero di Vinchiaturo Questa manifestazione nasce dall'esigenza in effetti di regalare alla città di Campobasso e nell'occasione si ringrazia l'amministrazione per l'ospitalità l'amministrazione comunale appunto dicevo per regalare un evento particolare e in effetti abbiamo creato degli stand espositivi con la commercializzazione appunto del cioccolato ma la particolarità sta nel fatto che abbiamo creato una struttura adibita a fabbrica del cioccolato perché sono intervenuti maestri cioccolatieri da diverse parti d'Italia che fanno comunque un percorso del cioccolato per diffondere la cultura l'arte del cioccolato intesa proprio per le proprietà appunto del cacao diverse le manifestazioni con spettacoli romantici di magia e illusionismo domani e domenica le 11 sfilata delle mascotte di Walt Disney con clown magia di bolle di sapone nel pomeriggio gli artisti di strada trampoliere sputafuoco e alle 19 sempre domenica spettacolo dell'artista clown Giulio Canfora cosa prevedono invece i laboratori domani ci sarà la creazione della barretta del cioccolato più lungo d'Italia l'ultima è di 16 metri noi arriveremo a 20 domenica mattina per il laboratorio ci sarà un laboratorio per la creazione delle tagliatelle al cioccolato hanno aderito due aziende molisane poi sono venuti dalla Sardegna dalla Sicilia e da Viterbo e oggi pomeriggio dalle 17 in piazza municipio sempre per cioccolando spettacolo con trampolieri giocolieri e marionette umane questa sera al multisala maestoso Erika muvoce nota della musica italiana presenterà il suo ultimo successo discografico contro le onde la cantautrice pugliese che ha partecipato nel 2012 al festival di Sanremo dove ha ottenuto il prestigiosissimo premio per la critica Mia Martini questa sera aprirà una serie di eventi culturali che puntano a portare la musica al cinema a partire dalle 19 un aperitivo precederà il concerto live della cantautrice l'appuntamento dunque con la musica è previsto per le 21 grande successo per la festa dei cuochi a Termoli che ha raccolto più di 800 persone in occasione dell'arrivo della reliquia del patrono San Francesco Caracciolo un evento organizzato dall'alberghiero che ha dedicato tre giorni a concorsi e convegni sentiamo Manuela Iorio la festa del cuoco è stata la giornata clou della manifestazione viaggiando con gusto organizzata dall'istituto alberghiero di Termoli e che ha portato in città centinaia di studenti e professionisti in occasione della festa sono arrivate in riva all'Adriatico le reliquie di Francesco Caracciolo patrono dei cuochi circa 300 chef del centro sud si sono incontrati per l'occasione a Termoli in un corteo che ha attraversato prima le strade del centro per arrivare poi in cattedrale dove è stata celebrata una messa soddisfatta per la riuscita dell'evento il dirigente scolastico Maria Chimisso è davvero un tour de force che ha richiesto tutte le nostre energie ma siccome noi così come il titolo del convegno di oggi siamo in bilico fra passione e professione mettiamo dentro quanto di meglio riusciamo a dare è un piccolo scrigno questo Termoli è un piccolo tesoro vogliamo valorizzarlo è baciata da un clima e da una posizione geografica estremamente favorevole e quindi contiene quegli elementi di cultura e di amminità che sono necessari per un buon turismo noi siamo un alberghiero abbiamo questa vocazione di formare i professionisti del turismo e dunque credo che questa manifestazione sia uno dei modi per lavorare in tale direzione tanti gli chef che sono arrivati dalle regioni vicine che in piazza Duomo subito dopo la celebrazione hanno preso parte la degustazione preparata dai docenti dell'alberghiero e dall'unione ristoratori del borgo in città per l'evento sono state registrate circa 800 presenze Capitanata è Gargano quindi la pronuncia di Foggia Lecce Bari sono stati presenti altre associazioni della campagna c'è stata anche la rappresentanza della ceciaria ampio dell'Abruzzo da Pescara alla grande Villa Santa Maria che dobbiamo dare a loro valgrazie soprattutto perché con la loro collaborazione siamo riusciti a costruire e a portare chiaramente il santo a Termoli è stato grande l'abbraccio dei cuochi e dei fedeli a Francesco Caracciolo il santo protettore degli chef le cui reliquie per la prima volta sono arrivate a Termoli portare in peregrinazio la sua urna è un impegno che ci siamo presi con l'anno centenario della sua nascita e prima ancora l'anno centenario della sua morte nel 2008 un impegno che sta portando dei frutti e poi è un uomo di Dio che ancora oggi ha qualcosa da dirci San Francesco come protettore ricorda ai cuochi e a noi che è fondamentale questo ricordarsi di Dio nella vita quotidiana a questa giornata dedicata alla festa dei cuochi al loro santo patrono ci sarà una puntata di viaggio in Molise su tutto ciò che andrà in onda oggi alle 15.25 dunque alle 15.25 viaggio in Molise speciale sulla giornata dedicata alla festa dei cuochi al loro santo patrono a Termoli è ancora un appuntamento della rassegna Molise Mio 2014 al ristorante Il Giardino dei Fratelli di Maria a Roma questa sera alle 21 ci sarà un menù dedicato al baccalà un appuntamento con il gusto e con la buona tavola la tutela dei diritti umani nelle missioni internazionali è il convegno organizzato dalla Croce Rossa del Molise e dalla Società per la Protezione dei Beni Culturali l'incontro si è tenuto alla ex GIL di Campobasso sentiamo Tutelare i diritti umani nelle missioni di pace nel mondo è uno degli obiettivi della Croce Rossa italiana proprio di questo si è discusso durante il convegno organizzato a Campobasso dal Comitato Regionale della Croce Rossa e dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali del Molise di cui è presidente Isabella Storri Quando si parla di tutela dei diritti per forza bisogna parlare di Croce Rossa perché il diritto internazionale umanitario è nato con la Croce Rossa proprio con la prima convenzione di Ginevra quando si parlava appunto nei vari articoli della tutela dei diritti di chi combatte non combatte più e di chi non combatte affatto quindi sia dei militari feriti prigionieri di guerra e civili Aiutare i popoli in guerra è un dovere di tutti anche i beni culturali devono essere tutelati Se è vero e sappiamo che tante sono le vittime umane nei conflitti armati pochi sanno che scempio si fa dei beni culturali che sono protetti come le persone lo scudo blu è la Croce Rossa dei beni culturali dovunque c'è questo scudo c'è il bene è inviolabile chi commette una violazione su un bene culturale commette un crimine di guerra come se uccidesse una persona e quindi noi abbiamo proprio questa e poi questo è il sessantesimo anniversario della Convenzione dell'AIA quest'anno 1954 e quindi è un modo per ricordare Al convegno dal titolo La tutela dei diritti nelle missioni internazionali che si è tenuto nell'auditorium dell'ex GIL hanno partecipato anche i docenti dell'Università del Molise Giuseppe Reale e Lorenzo Scillitani La tutela dei diritti internazionali oggi è possibile in che modo? Parlare oggi della tutela dei diritti può voler dire rimettere al centro del dibattito la fonte di legittimazione delle politiche delle politiche delle nazioni delle politiche degli stati si tratta di decidere se si tratta di decidere se si deve stare dalla parte dell'uomo oppure dalla parte del potere ancora una volta la discriminante è tra il diritto del singolo cittadino e quindi il diritto dei popoli alla sicurezza alla felicità all'integrità della loro nazione oppure in alternativa il potere il diritto del potere che sempre si traduce nel diritto del più forte La nostra emittente è in forma che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per le elezioni regionali in Abruzzo indette per il 25 maggio a tal fine Telemulise informa che nella propria sede in via San Giovanni in Golfo nella zona industriale a Campobasso è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi il numero massimo dei contenitori predisposti la collocazione nel palinzesto gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto è tutto termina qui il nostro telegiornale del 14 grazie per averci seguito buon pomeriggio Grazie a tutti